Da quel 24 agosto, quando la prima scossa di terremoto ha colpito l'Italia centrale, non si sono mai fermati. I Vigili del Fuoco, ancora una volta, sono i primi attori dell'emergenza. Oltre 1.500 colleghi stanno lavorando nelle zone interessate. Ricordiamo che oltre 280 comuni sono interessati dal sisma a centro Italia. Ci sono oltre 650 mezzi che stanno operando nelle zone colpite dal sisma. Impegno straordinario non ha mai smesso da quel famoso 24 agosto ai giorni nostri e continuerà, continuerà perché c'è necessità di aiutare le persone. Anche i Vigili del Fuoco sono terremotati perché tantissimi colleghi hanno le famiglie che sono terremotati anche loro. Ma nonostante ciò stanno operando in quei luoghi per cercare di portare dall'altra parte un contributo. Per questo, ora la categoria si aspetta un segnale di attenzione dal Governo. Questa condizione ci auguriamo che possa avere una risposta come già c'è stata dal Governo. Il sottosegretario Bocci, che segue a nome del Governo i Vigili del Fuoco, sta lavorando speditamente e speditamente rispetto a dei decreti che ci sono stati, ci auguriamo che ci siano delle risorse finanziarie che possano garantire dei dispositivi di protezione individuali perché il nostro mestiere sono fondamentali in più i mezzi e in più gli elicotteri. È importante che ci sia un segnale da parte del Governo perché la nostra flotta ci ha consentito in tempi rapidissimi di far raggiungere alle sezioni operative i punti dove poi abbiamo salvato le vite umane. L'ultimo aspetto, ma non per ordine di importanza, è quello legato anche a trovare delle soluzioni per i nostri stipendi. Ci auguriamo che il Governo trovi delle soluzioni anche perché il recente terremoto, l'attuale terremoto che è in corsa ha dimostrato, laddove ce ne fosse stato bisogno, che proprio i Vigili del Fuoco rappresentano una spina dorsale della sicurezza per quanto riguarda questi eventi.